Ciao a tutti ragazzi, Quareghi che vi parla e oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, la live di ieri non è andata molto bene perché è crashata, quindi ho deciso d'ora in poi di fare solo ed esclusivamente un'ora e mezza di live, così da non puoi rischiare che crashi, ecco. Quindi in quell'ora e mezza dobbiamo cercare di almeno fare il contest, è molto tempo un'ora e mezza, quindi dobbiamo giocarcela al nostro modo, ricordatevi la notifica e ricordatevi di condividere il canale anche quando saremo in live. Ricordo a tutti di passare comunque, ve lo ricordo sempre, su questo link, che adesso vi linko, si apre Google, vi faccio subito vedere, è il solito link che vi linko, però è giusto per farvi capire. Gioco.com, questo sito è gestito da me e qui troverete molte cose, molte cose, oltre che il mio canale adesso è in programmazione il sito, troverete un po' qualcosa su di me ovviamente, il mio link cliccabile. Fortnite, tutte le cose che farò su battaglia reale, stessa cosa su salva il mondo. Gli orari delle live, qui aprirete divertentemente il mio canale, gli ultimi video, playlist, playlist pure qui, basta che andate su playlist e inoltre trovate tutti i miei link se vi servono. Ragazzi, seguitelo il sito perché prossimamente nuovissimi giochi, visto che abbiamo anche Minecraft, e volevo ritornare a fare qualche gameplay, mi manca, veramente, mi manca. E poi c'è pure l'anniversario, ecco, quindi voglio ritornare, mi piace come gioco, come mai non piaciuto, ecco. Comunque, perché siamo qui oggi con una nuovissima arma moddata? L'armi legacy, l'ultima ve l'ho portata ieri, sì, e oggi siamo qui con un'arma moddata a doppio elemento, quindi dovrebbe sparare a doppio elemento quando becco in critico. Si parla della rivolta fondatore, l'ultima che vi avevo mostrato di rivolta moddata è stata questa, acqua e natura, e oggi vedremo fisico natura. Ne abbiamo anche una legacy, però esiste pure una al 106 moddata a doppio elemento, e ci sta un botto, io spero di farmela, di averla, ecco. Successivamente, abbiamo 1000 di raggio circa, quindi siamo a cavallo. La cosa è composta? Allora, natura e fisico. Fisico ovviamente fa sempre di più la natura, full percata blu come l'altra, e se ci fate caso i perk sono identici, assolutamente ho cambiato un perk, cioè quello centrale. Quindi il perk comunque portante è quello centrale, scusatemi, quello che si spara è natura, sempre capite? Però quello che si vede sull'arma, proprio sulla punta dell'arma, è il fisico. Ragazzi, adesso andremo a provare, stesso come l'altro perk, e come gli altri perk della stessa arma, che abbiamo visto nel vecchio video, danno, headshot damage, 3,27%, e damage to slowed and shnered, non ce l'ho presente, hanno messo tutto in inglese dei scemi, però vabbè. E poi niente, getting dopo 5 headshot, incremento il danno delle armi, quelle a lungo raggio, penso, se non erro, scusatemi se sbaglio, il più 30% per 10 secondi, non è male come arma, raga. Trasferiamola, adesso la utilizzeremo, ok. Ok, aspettate che alzo 2 o 3 qualità, voglio farvi vedere il gioco proprio bene. Quindi così. Applica. Quindi ragazzi, attenzione che adesso andremo in gioco a provare questa nuovissima arma ammottata. Quindi ragazzi, non esitate a lasciare un bel like e a condividere il video. Andiamo a scegliere una missione a casissimo, intanto non la devo completare, mettiamola anche in pubblico se vogliamo, intanto non ci cambia nulla. Ma sì, questa qua. Niente, raga, ci vediamo direttamente in missione dove andremo a provare questa nuovissima arma ammottata, cioè la nostra revolver Legacy, doppio elemento, fisico natura. Ed eccoci, raga, eccoci qui con la nostra rivolta fondatore, la Revolt Founder. Adesso andremo a provarla tutti insieme e vediamo un po' di cosa stiamo parlando, ragazzi. Dovrebbe essere un'arma... Comunque spari doppio elemento in testa, quindi dovrebbe fare comunque il nostro... ...elemento natura e l'elemento fisico insieme. È improbabile che li fa, perché l'elemento fisico io non lo considero neanche un elemento. Sappiamo come fa l'elemento fisico, no? Se andiamo a prendere un'arma per farvi capire se ce l'abbiamo... Abbiamo solo gli schi... Ah no, questa. Oppure... Un'arma in fisico. Oh, eccola qua, la MET. Facciamo un esempio con la MET. Vedete come fa un'arma in fisico? Bianco, giallo in testa, capite? Quest'arma è sicuro che fa... Che si dice? Che fa... Natura. Vabbè, adesso sta laggando in una maniera selvaggia. Però amen, ok. Laggava perché stava dando il premio. E ne è buona. Andiamo subito contro qualche mostro. Quindi, come abbiamo visto con la MET Candy... Fa fisico... Se prendi in testa fa bianco. Justamente fisico. Elemento più forte pure. Però io voglio vedere contro proprio dei mostri in testa. Oddio, uno smash era appostissimo, direi. Ok, così fa Natura. Io non vedo il fisico. No, non lo vedo. Non lo vedo manco a morire, l'ho visto. Però comunque... Natura, cioè l'elemento comunque nascosto... Il secondo elemento di quest'arma... Si vede. Ovvio. Doveva per forza vedersi. Però... È così la vita. Non me lo aspettavo. Cioè, noi ci aspettiamo dal fisico che fa così, capite? Non... In un altro modo. Allora, qua c'è troppo casino. Ecco, vediamo contro quel mostro là. Fa solo un elemento. Mi dispiace perché l'altra pistola faceva proprio doppio. Posso non io che lo prendo malissimo, il mostro? No, no, l'ho preso stra... L'ho preso stra in centro, avete visto? Non lo fa il doppio elemento. Mi scoccia, mi scoccia perché cazzo, vi da l'altra... Lo fa, vedete? No, 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 non lo fa. Abbiamo provato in tutti i modi, non lo fa. Adesso lo utilizzo ancora un po' per... Per vedere... Forse sbaglio io. No, non lo fa. Mi dispiace raga, io pensavo proprio da quest'arma, comunque vedendo l'altra, quale è in acqua in natura, che l'ha fatto doppio elemento. Ce l'abbiamo visto, l'abbiamo visto insieme. Ci sono delle armi che fanno doppio elemento e altri che non lo fanno. Quindi boh. Tanto è che devo scrivere a lui. Me l'aspettavo diversa questa arma. Comunque il valore di quest'arma è sui 1.500 di raggio, pure l'altra, quella in acqua. Però quella che vale di più è quella energia natura, che vale sui 2.000. Però... L'andrò a prendere a meno, se l'andrò a prendere. Dunque, l'arma è questa. Mi fa, comunque, danno in natura, come abbiamo visto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di esservi stato utile. Vi ricordo ancora, utilizzate gioco.com per qualsiasi cosa. Lì andremo anche a postare video. Cioè video, ovviamente i link dei video. E i post delle nuovissime armi che mi arrivano giornalmente, capito? Quindi... Ci sta come cosa. Beh, per essere all'82 questa arma è forte contro i mostri del 140. Ci sta. Mi piace. Oh, io ci riprovo contro questo qua. Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Oh, ci ho provato in tutti i modi. Mi dispiace, mi scoccia. Mi scoccia veramente molto. Vabbè, dai. Mi è piaciuta. E niente, raga. Qui da righe tutto. Ci vediamo col video di domani. E... Vi linko anche il video di ieri, se vi va, alla fine di questo video. E niente, raga. Bella, raga. E ci vediamo stasera con quest'ora e mezza di live, come vi ho già detto. Perché se ne facciamo di più... Non reggere... Non regge. Bella, raga. Non reggere. Non reggere. Non reggere.